Allora, ho voluto i miei capitani, i simboli di due squadre che hanno disputato un ottimo superetti, in alcuni casi ci hanno lasciato pure qualche goccettina di sangue, come è capitato a Capitan Luongo che mi disse, non c'è problema, l'importante è fare i tre punti in campo, poi dei punti, di altri tipi di punti non ci interessa nulla. Allora, per voi è stata una stagione molto positiva, io direi fantastica, sei d'accordo sul fantastico? Fantastica sì, perché il primo anno siamo ripartiti, ripeto, dopo anni bui a Vasto, una squadra giovane, una squadra fatta di amici soprattutto. Siamo arrivati alle fasi nazionali, finali, bene, forti, fisicamente bene, purtroppo siamo solo usciti ai rigori con il superato, sul campo non l'abbiamo perso. Ricordiamolo che la Vastese è stata protagonista probabilmente dalla partita dal punto di vista di intensità emotiva più bella insieme a quella che hanno giocato i ragazzi dell'Udinese. Ricordavo ieri facendo del male a Luongo perché mi sta antipatico, allora gli ricordavo, scusami a Russo, gli ricordavo che per 32 minuti loro erano stati in semifilale del Super 8 e lui mi ringraziava dicendo grazie di avermelo ricordato. Sì, adesso ci vorrà una settimana per recuperare sia a livello fisico che mentale, però dai, ci siamo divertiti, quello è importante. Voi avete giocato, siete tra le due squadre che dimostrano che questo Super 8 fondamentalmente ha cambiato marcia dal punto di vista della media delle squadre, no? Lo scorso anno c'era più differenza tra le grandissime, le grandi, poi insomma le finaliste di questa edizione, Roma e Lazio, gli stessi Cavalieri. Quest'anno mi sembra che si sia veramente assottigliata la differenza. La vostra partita per esempio con Lazio sta a dimostrarlo? Certo, sì, rispetto all'anno scorso si è appiattito questo fattore. Contro la Lazio meritavamo qualcosa in più, però loro hanno, come dicevamo ieri, il Ruimotta in più, che noi non abbiamo, quindi bravi loro e beati loro che domani si gioca uno scudetto. Ma scusa, ma un colpo tipo quello degli anni 80, quando l'Udinese prese Zico, no? Andargli a rubare Ruimotta, ma se non è che stai tramando nell'ombra? È come abbiamo fatto quest'anno con Smith, no? L'anno prossimo facciamo un altro colpo di sicuro. Ma voi pescate con l'Orange, guarda se prima o poi Robben non giochi il Super 8, io questa cosa me l'aspetto da te. Va bene capitano, è stato un vero piacere, è stato un privilegio stare con voi, è stato un privilegio stare naturalmente anche con voi ragazzi. Il prossimo anno veniamo qui per fare cosa al Super 8, vincerlo? Beh, innanzitutto cercare di continuare su questa linea d'onda con i ragazzi, perché loro dovranno crescere molto il primo anno per loro, però si sono abbientati bene, è uno sport difficile, però che crea entusiasmo e crea molto amicizio e il rispetto tra le squadre. E facciamo una cosa, va, diciamo magari il prossimo anno ancora processo di crescita, ma tra due stagioni due la finale Scudetto-Vasto-Udinese? Magari, magari. Ci aggiochiamo sicuramente. Grazie, è stato un piacere soprattutto per loro che hanno goduto il privilegio di stare davanti a una telecamera con me e ci vediamo più tardi. Ciao, ciao.